Si è parlato soprattutto di migranti, ma anche di riforme e di costi della politica. Tre aspetti critici sollevati dai presidenti delle regioni, che in delegazione hanno incontrato al Quirinale il capo dello Stato. Sergio Mattarella ha ascoltato i governatori che hanno insistito sulla riduzione dei soldi che arrivano nelle casse degli enti locali, la cui gestione centrale, hanno sottolineato i presidenti guidati da Sergio Chiamparino, è stata tagliata fino al 38%. Nei saloni del Quirinale il presidente ha incoraggiato i governatori alla politica del rigore e della solidarietà. In carica da meno di un anno, Mattarella potrebbe essere il terzo capo dello Stato, dopo Sandro Pertini e Carlo Azzeglio Ciampi, a visitare il Molise. Nei dieci anni passati sul colle più alto della capitale, Giorgio Napolitano ha viaggiato in tutte le regioni italiane, tranne che in Molise, a differenza del suo predecessore, che tra l'altro partecipò anche ai funerali di Stato di San Giuliano di Puglia, l'unico presidente della storia repubblicana a essere rieletto, non ha mai passato il confine di San Vittore per una visita ufficiale a Campobasso o a Isernia. Dunque, con il settennato che si è appena aperto, questa lunga assenza istituzionale potrebbe indurre Sergio Mattarella a tornare nella nostra regione. Dopo la visita di Papa Francesco, che ha interrotto un'assenza ventennale di un pontefice, il capo dello Stato, nel cui staff lavora anche personale che ha origini molisane, potrebbe colmare questa lacuna. Non è ancora dato sapere se un invito ufficiale sia pervenuto al nuovo presidente della Repubblica, ma la strada istituzionale interrotta da Napolitano tra il Colle e il Molise potrebbe riaprirsi anche molto presto.